Nella mattinata odiena la Polizia di Stato con personale della squadra mobile del commissariato di Ponticelli ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta dalla locale direzione di istrettore antimafia nei confronti di 60 persone gravemente indiziate a vario titolo, le associazioni di stampo mafiosa, associazione delinquere finalizzata al furto, concorsi esterni in associazione mafiosa, attentato, omicidio, possesso ingiustificato di armi e ordini esplosivi, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione. L'indagine condotta tra il 2021 e il 2022 ha documentato l'esistenza e l'operatività di un sodalizio di tipo camorristico operante nell'area orientale del capologo e in alcuni comuni della provincia, facente capo alle famiglie De Micco e De Martino, espressione sui predetti territori del più noto clan Mazzarella. In particolare le investigazioni hanno dimostrato come all'esito della contrapposizione tra il clan D'Amico e il D'Amico, che nel corso degli anni ha causato numerosi omicidi e fatti di sangue sul territorio di Ponticelli, abbia assunto un ruolo predominante il clan De Luca Bossa, che unitamente alle famiglie Minichini, Casella, Aprea e Cuccaro è l'espressione della famigilata alleanza di Secondigliano. Tuttavia numerosi omicidi e fatti di sangue hanno finito ben presto per inclinare la predetta alleanza e per determinare l'avvio di una nuova fase di contrapposizione tra i due gruppi criminali, accentuata se a seguito della scarcerazione di esponenti di spicco di entrambe le compagini. L'organizzazione criminale investigata era in grado di gestire l'intera filiera del narcotraffico, dell'approvvigionamento di ingenti quantità di stupefacenti, cocaina, crack, marijuana e hashish, fino allo smercio della droga al dettaglio. Numerosi in tal senso sono stati riscontri effettuati nel corso delle indagini con il sequestro di circa 200 kg di sostanze stupefacenti di diverso tipo, oltre ad un laboratorio utilizzato per la raffinazione e confezionamento del crack e un locale per lo stoccaggio e la preparazione di altri tipi di droga. Infine sono state documentate numerose condotte estorsive portate avanti con la tecnica del cavallo di ritorno. Alcuni indagati infatti erano dediti al furto di auto e molti veicoli che successivamente venivano restituiti ai legittimi proprietari solo dietro il pagamento di ingenti somme di denaro. Il provvedimento è eseguito in una misura cautelare risposta in serie di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione e destinata a ridastesa sono persone sottoposte alle indagini e come tali presunte innocenti fino a tendenza definitiva.